Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Io vi saluto dalla cortina da un pezzo, guardate che meraviglia! Siccome siamo in montagna, ovviamente non ci manca mai la neve. Mi piace troppo spaccarlo. Ora mi trovo al lago di Ghedina, guardate quante anatre e pesci! Sì, la prima neve di questo anno è già qua. Troppo bella! La prima neve è la più divertente, più importante, bella! Grazie per aver caperto di ghiaccio! Perciò ragazzi, vi è piaciuta questa piccola avventura? Ovviamente iscrivetevi e lasciate like! Alla prossima avventura! Ciao!